Mi chiamo Francesco Piotti e faccio il modicista di produzione, perciò hanno già detto un po' tutto e la cosa che mi ha colpito è il fatto del grande interesse, del grande entusiasmo nell'investire nella cultura e nell'usare la cultura come mezzo di arricchimento di Tartini, perché la cultura vuol dire tante cose, ma soprattutto vuol dire ricchezza, sia morale che economica e girando tanto per lavoro al di fuori dell'Italia vedo che è difficile trovare realtà così lungimiranti in questo senso, perché purtroppo in Italia non c'è questa visione e perciò spero che questo sia solo il principio di qualcosa che possa diventare più grande e che possa essere da traio per Tartini, perciò sono contento di aver fatto questo programma in collaborazione con i miei soci dell'associazione World Records, con cui abbiamo organizzato soprattutto tutta l'organizzazione, ci saranno modicisti di fama nazionale, internazionale e è un piccolo primo passo, ringrazio Martina che comunque ha avuto il coraggio di calarsi subito in questa avventura e il 3, 4 e 5 faremo questa manifestazione e credo inaugureremo il teatro per l'anno 2020. Esatto, sarà il primo spettacolo del teatro e aprirà la stagione teatrale che avrà subito dopo. Perciò ringrazio il sindaco e l'amministratore che mi hanno invitato a fare questa conferenza e che hanno creduto di questa cosa e spero che la cosa cresca. FRIZCA MVP Grazie.